Nei campi e nei frutteti della Val di Chiana è allarme rosso. Questo il grido d'aiuto lanciato dalla CIA che spiega come sia complessa la situazione anche in provincia di Arezzo. Impossibile confidare in una pioggia risolutiva. Gli esperti annunciano infatti che il caldo e l'assenza di precipitazioni proseguiranno. Inutile poi sperare nella risorsa del calcione anche l'invaso che in passato dava sollievo all'agricoltura e in sofferenza come mai prima d'ora. Dunque le cose per gli agricoltori si complicano. C'è poca acqua nei canali, le falle idriche sono stressate, i laghetti aziendali quasi a secco e l'invaso al confine tra Arezzo e Siena non può rilasciare acqua. Lo ha spiegato il direttore dell'ente gestore e auto al tavolo regionale convocato per fare il punto della situazione. La presidente della CIA Serena Stefani ha così deciso di prendere carta e penna e scrivere alla regione toscana. Se davvero, come ci è stato detto, non è possibile e anzi in questo momento risulta controproducente utilizzare l'acqua del calcione per alimentare fuenne ed esse e dare così modo alle imprese agricole di rimpinguare le loro riserve idriche, a loro occorre intervenire con una soluzione di emergenza. È indispensabile l'immediata dichiarazione dello stato di calamità e la tempestiva istituzione di un fondo di sostegno per risarcire in modo immediato e reale il danno subito dagli agricoltori che stanno pagando a caro prezzo la mancanza di risorsa idrica. La misura d'emergenza non può prescindere, prosegue dallo studio e dall'adozione di soluzioni strutturali. Completare i distretti irrigui di Montedoglio è urgente. Vediamo infatti che nelle aree servite dalle condutture collegate all'invaso le occulture non hanno subito contraccolpi. La diga rappresenta un polmone importante per consentire all'agricoltura di respirare. Anche quando, conclude Simona Stefani, il termometro misura temperature straordinarie e le precipitazioni scherzeggiano.